E ben ritrovati. E un benvenuto al professor Gino Ruozzi, che è un bentornato in realtà perché è spesso ospite della LUC, un ospite apprezzatissimo e ammiratissimo. Quindi grazie. Oggi ci parlerà di Beppe Fenoglio. Il 2022 è stato il centenario della nascita, il 2022 che si è appena concluso, il centenario della nascita di Fenoglio. E abbiamo stato detto che gli autori che presenti quest'anno, il 2022 e il 2023, sono anni di tantissimi anniversari per la letteratura italiana. Abbiamo visto Celati, l'abbiamo visto con Tabuchi, lo vedremo con Sciascia, con Fenoglio, con Testori. Però non è stato certo il criterio per cui abbiamo scelto, il criterio degli anniversari, la ragione della scelta di questi autori. In realtà questi autori che abbiamo scelto e stiamo presentando sono tra i grandi, anche grandi innovatori della letteratura. Fenoglio è stato un grande innovatore, innovatore per la sua lingua, una lingua che mescola l'inglese, il piemontese e l'italiano, per la sua scrittura così asciutta che certe volte sembra quasi una sceneggiatura di un film, per il modo che ha avuto, per la sua narrazione della resistenza che è così antieroica, così profondamente umana e diretta. Ecco, ma di questo parlerà appunto benissimo il professor Ruozzi. Fenoglio è morto giovanissimo, a 40 anni, quindi non ha avuto in vita, diciamo, quel riconoscimento letterario che poi è stato tributato dopo, tanto che addirittura in vita vide solo pubblicati tre dei suoi libri. I più importanti, il partigiano Johnny, una questione privata, sono stati tutti pubblicati dopo la sua morte. Ecco, e quindi oggi appunto ne parleremo con il professor Ruozzi che è docente di letteratura italiana all'Università di Bologna, collaboratore del Sole 24 Ore, presidente dell'Associazione degli Italianisti, ha pubblicato tantissimo e l'ambito privilegiato delle sue ricerche sono proprio le forme brevi della letteratura italiana su cui ha scritto libri importanti, ha curato i due volumi dei Meridiani, degli scrittori italiani di aforismi, gli epigrammi italiani e poi animali della letteratura italiana, oggetti della letteratura italiana, favole, apologhi e bestiari e poi si è ha curato anche studi sul Settecento, una monografia su Flaiano e tanto altro. È direttore anche della Biblioteca Maldotti di Guastalla, che è una delle biblioteche storiche più importanti che ci sono non solo nella nostra provincia, ma direi anche nella regione, ma è anche una biblioteca che fa una importante attività come biblioteca pubblica, organizzando parecchie attività per il grande pubblico. Ecco, io vi lascio all'ascolto del professor Ruozzi. Vi ricordo anche, vi segnalo, che sta per ripartire questo corso di lettura e scrittura, è un laboratorio di lettura e scrittura con lo scrittore Guido Conti, che sarà dedicato quest'anno ai racconti italiani, ai racconti contemporanei. Ci saranno appunto scrittori, si leggeranno e si analizzeranno scrittori come Manganelli, Fenoglio stesso, Gadda, Calvino e tanti altri. E alla fine poi ci sarà una raccolta dei migliori racconti che usciranno dalle penne dei corsisti, per cui pubblicheremo una piccola antologia. Ecco, il corso sarà online. È una formula che abbiamo sperimentato l'anno scorso e ha funzionato molto bene proprio. C'erano anche persone da fuori reggio che si collegavano. E alla fine solo l'ultimo incontro sarà in presenza con la lettura appunto di alcuni dei migliori racconti che usciranno dal laboratorio. Questo parte in febbraio e finirà, penso, ad aprile e maggio. Grazie. Grazie ancora al professor Ruozzi. Vado ad ascoltarlo. Grazie Susi e grazie a tutte e a tutti per essere qui e quindi per questa comune chiacchierata, approfondimento su Fenoglio. Io immagino che molti di voi appunto abbiano già letto i testi o diversi testi di Fenoglio. Io adesso cercherò di impostare un po' il problema e anche il problema Fenoglio. Perché appunto Fenoglio è uno scrittore che, come diceva prima Susi, in vita ha fatto un po' fatica. Ha fatto un po' fatica anche dal punto di vista personale. E poi dopo, per una serie di ragioni che poi dopo cercheremo di capire e di vedere, è diventato invece uno dei punti di riferimento principale appunto della nostra letteratura del Novecento. Ora partiamo con ordine. Appunto Fenoglio è davvero morto molto giovane. Molto giovane. 41 anni. Era nato appunto nel 22 e muore nel 63. è di Alba e fa parte appunto di questa generazione. Adesso Susi ha nominato alcuni di questi scrittori del 22. Pasolini, appunto di Bologna, anche se poi dopo per molte cose è ascrivibile anche al Friuli. Però questa cosa bolognese è molto importante. Pasolini che nasce a Bologna il 5 marzo. E poi dopo abbiamo altri autori come per esempio Luciano Bianciardi, l'autore della vita agra che esce proprio nel 1963, che è l'anno in cui invece muore Fenoglio. Abbiamo Meneghello. Voi farete appunto dopo un approfondimento su Meneghello, anche noi a Guastalla, poi faremo per esempio quattro serate, quattro film dedicati appunto a Fenoglio, a Meneghello, a Bianciardi e anche a Flaiano, di cui sono i 50 anni invece dalla morte. Un altro autore, sempre del 22, che è morto quest'anno, cioè nel 22, pochi mesi fa, è Raffaele La Capria. È morto quasi centenario. È un autore di Napoli, uno dei più importanti autori di Napoli. Napoli è stata una città che ha dato tantissimo, che sta tuttora dando tantissimo alla letteratura, alla cultura, ma pensiamo anche al cinema, è vero, del Novecento. Quindi anche La Capria è stato un altro autore molto importante. Per esempio anche Gina Lagorio, perché poi non dimentichiamoci anche le scrittrici che forse hanno avuto un po' meno rilievo per varie ragioni, Maria Luisa Spaziani, una delle grandi poetesse o poete, come preferiva farsi chiamare lei. Poi appunto nel 23, quindi poi siamo tutti a cavallo, no? Abbiamo Calvino, voi farete Testore, un altro autore molto importante, un autore forse che è meno sotto i riflettori o resta del buono, ma anche lui è un autore che ha dato tantissimo alla letteratura. Quindi sono anni particolarmente significativi, ma ne abbiamo trascorsi il 20, il 21, da Fellini a Tonino Guerra. Quindi diciamo la letteratura italiana è veramente ricchissima, quindi questo ci dà molto conforto ed è una letteratura che ha dato un rilievo molto significativo, diciamo così, anche all'esperienza della guerra. in questi giorni siamo proprio, ci stiamo approssimando al giorno della memoria, quindi naturalmente la guerra ritorna in maniera drammatica e poi purtroppo, purtroppo la guerra c'è, ci sono tante guerre, sembrano giorni per certi versi lontani, che speriamo sempre lontani, invece ritornano sempre con drammatica attualità. Calvino e Fenoglio sono molto vicini. Calvino era di un anno più giovane, però Calvino ha, diciamo così, fortuna, maggior fortuna, adesso non so se lo farete, probabilmente ne parlerete, cioè Calvino ha la fortuna, diciamo, di quei ventenni che diventano subito dei classici, perché Calvino, appunto, è del 1923, come lo era Scalfari, perché erano compagni, tra l'altro, di classe, era del 1923 e nel 1947 pubblica il suo primo romanzo, giovanissimo, che è Il sentiero di Enidì di Ragno. Questo lo dico perché adesso leggeremo una pagina di Calvino molto importante per Calvino, per la letteratura della Resistenza e per Fenoglio, perché è la pagina che sostanzialmente consacra Fenoglio, appunto, nella grande letteratura del Novecento. Io con Fenoglio, diciamo così, non ho avuto un rapporto diretto, ma ho avuto un rapporto, diciamo, indiretto attraverso il critico, Lorenzo Mondo, che anche lui è morto nel 1922, è stato colui che ha pubblicato, cioè che ha scoperto, e pubblicato i due libri, i due libri proprio a cui accennava prima Susi, cioè Una questione privata, e Il partigiano Johnny. Cioè i due libri che noi riteniamo i due grandi libri di Fenoglio, quelli che hanno dato la grandezza di Fenoglio, e forse anche da un certo punto di vista, almeno per quanto riguarda la questione privata, un libro semplice, pur nella sua complessità, però un libro semplice, cioè che arriva subito all'immaginazione e al cuore dei lettori. Sono due libri pubblicati, uno appunto nel 1963, pochi mesi dopo la morte di Fenoglio, e l'altro nel 1968, e tutti e due si devono appunto al ritrovamento di Lorenzo Mondo. Lorenzo Mondo è stato un critico, un giornalista, è stato il vice direttore della stampa, il direttore di Tutto Libri, di Torino, e fu uno dei primi a parlare di Fenoglio nei primi anni Sessanta, rivalutando alcune cose e avendo quindi l'opportunità da parte della famiglia, ma soprattutto degli amici di Fenoglio, di poter andare a vedere queste casse in cui erano conservati dei testi ancora inediti di Fenoglio. Lorenzo Mondo aveva già fatto un'operazione simile qualche anno prima insieme a Italo Calvino. Lorenzo Mondo era del 31, con l'epistolario di Pavese. Mondo appunto aveva cominciato a lavorare su Pavese insieme a Giovanni Getto, che era il suo professore all'Università di Torino, che è stato il professore di Barberi Squarotti, di Edoardo Sanguinetti, uno dei punti di riferimento dell'italianistica del Novecento, e appunto era entrato poi in contatto con la sorella di Pavese e anche lei aveva detto, le aveva detto a Mondo, che c'erano delle scatole, queste scatole che ogni tanto girano e che sono delle fortune, per esempio lo zibaldone di Pensieri di Leopardi, è una pura fortuna che noi possiamo leggerlo, perché era finito appunto in scatole, in casse allora, in casse di ranieri che erano passate, la donna di servizio, eccetera, così, e quindi anche lì erano state ritrovate abbastanza fortunosamente, per cui se noi possiamo leggere, per esempio, un'opera capitale, che riteniamo capitale, come lo zibaldone di Pensieri di Leopardi, lo dobbiamo in buona parte alla fortuna, ma così anche per altre tante opere. E per l'epistolario di Pavese, appunto che Lorenzo Mondo e Italo Calvino pubblicarono in due volumi negli anni Sessanta, e appunto per una questione privata, una questione privata per il partigiano Johnny. Una questione privata che noi oggi leggiamo come libro a parte, in realtà appunto venne ritrovata in queste casse, e venne ritrovata appunto e pubblicata quasi subito in un libro di racconti che si chiamava Un giorno di fuoco, Un giorno di fuoco, pubblicato da Garzanti. Quindi la questione privata, che noi oggi leggiamo come libro a parte, come libro a sé stante, la prima volta venne pubblicata come l'ultimo dei racconti di questo libro che si chiamava Un giorno di fuoco, un libro di racconti che inizia appunto con un racconto strepitoso dedicato a un bandito, una sorta di bandito che un giorno si mette a sparare, appunto Un giorno di fuoco. E la questione privata, una questione privata, esce come ultimo dei racconti di Un giorno di fuoco. Erano imbozze, appunto Lorenzo Mondo parla con Attilio Bertolucci, Pietro Citati e Garzanti, gli comunica questo ritrovamento, questo lungo racconto, romanzo breve, ancora non ha una definizione esatta. E allora a libro imbozze, appunto viene deciso di inserire questo inedito, questo inedito appunto che sarà poi una questione privata. Un inedito senza titolo, senza titolo, anche il titolo si deve a Lorenzo Mondo. Quindi una questione privata. È un probabile titolo di Fenoglio, ricavabile da alcune lettere precedenti, ma appunto alla fine, questo titolo così fortunato e così importante, e così importante, appunto viene deciso anche abbastanza rapidamente, nel giro di poco tempo, appunto passando direttamente dalle casse di Alba, dalle casse di Alba alla tipografia in cui appunto Garzanti sta stampando un giorno di fuoco e diventa appunto il libro per, forse il libro per eccellenza appunto, di Fenoglio. Una questione privata che poi immediatamente, visto il successo, visto il successo che ha, il riconoscimento che ha, diventa libro a sé stante. Quindi poi dal 63 in poi cominciano le pubblicazioni di una questione privata come libro a sé. Ecco, questo per dire come la fortuna, la storia di Fenoglio è anche una storia accidentata e accidentale. E più o meno, più o meno, nello stesso modo, nello stesso modo verrà pubblicato il partigiano Johnny nel 1968. quindi qualche anno dopo, anche qui, con una questione filologica di cui parlerò, ma parlerò dopo, parlerò dopo, perché io adesso non so se voi avete letto il partigiano Johnny, vi chiederei di alzare la mano chi ha letto il partigiano Johnny. Allora, non so se adesso lo ricordate, ma vi chiederei tornando a casa, ma dopo lo facciamo, dopo lo spiego bene, quale partigiano Johnny avete letto. Perché in realtà oggi, 2023, abbiamo almeno, almeno, quattro versioni del partigiano Johnny. E dopo vi spiego anche la storia di queste quattro versioni. quindi non abbiamo il partigiano Johnny. Non lo avremo probabilmente mai il partigiano Johnny. Abbiamo, diciamo, delle versioni, dei modi, dei modi di confezionare questo libro, questo libro che si chiama il partigiano Johnny. Ma guardate, non abbiamo neanche la commedia, cioè non abbiamo neanche la divina commedia in un testo unico, assolutamente, diciamo, sicuro, sicuro, no? Abbiamo, quindi stiamo parlando del libro più importante della letteratura italiana, uno dei libri più importanti della letteratura mondiale, cioè non abbiamo nessun manoscritto autografo di Dante, nessuno, nessuno. Quindi noi abbiamo costruito la storia, la tradizione, ha costruito la divina commedia attraverso i manoscritti, attraverso il confronto dei manoscritti, attraverso il riferimento a quella che è stata la possibile storia dei manoscritti di Dante e della commedia di Dante. Già anche il titolo, no? E' il titolo per eccellenza la divina commedia, ma non è probabilmente il titolo, il titolo è la commedia, ma forse non è neanche la commedia. nonostante questo è un capolavoro, è una cosa che leggiamo in Italia, nel mondo e quella comunque più o meno. Per dire come comunque i testi sono mobili, non sono sempre definitivi, ma lo stesso è un'altra cosa che ci riguarda molto da vicino, l'Orlando innamorato di Boiardo, qui a due passi, anche lì nel 1999 è stata fatta l'edizione critica che si chiama l'innamoramento di Orlando, Quindi diciamo dobbiamo essere abituati alla mobilità dei testi, dalla commedia di Dante al partigiano Johnny, partigiano Johnny di Fenoglio. Nel 1900, chiuso un primo capitolo, nel 1964 Italo Calvino scrive la prefazione al sentiero di Nidi di Ragno. Vi ho detto prima che il libro era stato pubblicato nel 1947. Quindi, dopo quasi una ventina d'anni, 17 anni, Calvino scrive la prefazione. Il libro quando esce non ha nessuna prefazione, ha delle parole molto importanti di Cesare Pavese, che era l'autore e il redattore, il capo redattore dell'Ainaudi, che aveva scoperto Calvino, che aveva appunto dato a Calvino e al sentiero di Nidi di Ragno, l'imprimatur della pubblicazione, con riserve e anche con grandi riconoscimenti. E poi parlerò anche di Pavese, perché Pavese è un altro autore molto importante, di una generazione precedente. Qui stiamo parlando, abbiamo detto prima, di autori degli anni 20, dei primi anni 20. Pavese invece è del 1908, la generazione precedente alla Prima Guerra Mondiale, come Moravia, come Flaiano, come Brancati, come Vittorini, come Soldati, come Guareschi, come Elsa Morante. Loro sono nati tutti prima della Prima Guerra Mondiale. E questo è importante storicamente. e poi ognuno ha le sue reazioni personali. Però è importante storicamente, perché hanno fatto più o meno tutti i 20 anni durante il fascismo. Mentre invece questi di cui stiamo parlando, quelli degli anni 20, hanno fatto i loro 20 anni sì durante il fascismo, ma durante la resistenza. E quindi è una prospettiva completamente diversa. Fare 20 anni durante gli anni 30 o farli durante gli anni 40, storicamente è stata una prospettiva molto molto diversa. Quindi Calvino scrive questa prefazione diciamo dopo, ripensandoci. Negli anni 60, nei primi anni 60, l'Italia è già profondamente cambiata rispetto agli anni successivi alla resistenza, al neorealismo. Noi fissiamo la cosiddetta epoca del neorealismo che è un'epoca cinematografica soprattutto. Il neorealismo è soprattutto cinematografico. Rossellini, De Sica, Zavattini. Ecco, questi autori appunto sono autori che lavorano soprattutto negli anni 40, nei primi anni 40 e negli anni 50. Vittorini pubblica Uomini e Nocchi, un romanzo sulla resistenza nel 1945. Quando Calvino scrive la prefazione al sentiero dei nidi di ragno siamo nel 1964. Siamo in un'Italia che è già industriale. È un'Italia repubblicana. L'Italia diventa come sapete repubblicana nel 1946. La Costituzione è del 1948. Sono anni di straordinario sviluppo politico ed economico. Per esempio appunto il suffragio universale femminile e maschile per la prima volta. La trasformazione molto rapida in una società industriale, il cosiddetto boom economico. L'Italia che cambia da civiltà da società contadina diventa una società industriale. Sono gli anni, i primi anni 60, per esempio, della letteratura industriale. Italo Calvino e Delio Vittorini parlano molto della letteratura industriale. Quindi siamo già in una dimensione appunto di letteratura anche diversa. È uscito Il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa con varie polemiche. Sono usciti, stanno uscendo, i romanzi di Bassani che è fondamentale proprio per i giorni di cui stiamo parlando adesso, i giorni della memoria. Il giorno è un uomo di Primo Levi era uscito nel 1947 esattamente il giorno dopo del sentiero di Enidio di Ragno di Calvino ma non aveva avuto quasi nessuna eco. Calvino non aveva parlato e pochi altri. Resta lì per una decina d'anni praticamente senza avere un rilievo. Verrà ripubblicato nella collana saggistica del 58 dai Naudi ma verrà ripubblicato in un contesto diverso che è il contesto in cui Bassani Bassani tra i primi se non il primo dice che anche gli italiani sono corresponsabili della Shoah. È uno shock tremendo è uno shock tremendo che non si voleva ascoltare. Gli italiani brava gente in genere sia nelle colonie sia nella storia. Invece Bassani con gli occhiali d'oro e poi con il giardino dei Finzi Contini mette il dito sulla piaga dicendo che gli italiani sono corresponsabili con le leggi razziali eccetera di quello che poi è successo e quindi sono corresponsabili della Shoah. Allora Primo Levi viene ripubblicato in un contesto diverso e diventa diventerà nel corso dei decenni successivi il classico l'autore uno degli autori fondamentali del novecento non solo italiano ma non lo era fino ad allora. Ecco questo per dire anche il contesto dei dieci anni in cui pubblica Fenoglio dei primi libri di Fenoglio e in cui esce questa prefazione così importante per la storia della letteratura italiana del novecento firmata da Italo Calvino. Ve la leggo ve la leggo per intero non la prefazione ma questo passaggio così importante e poi dopo la spieghiamo la vediamo la vediamo insieme perché ci sono dei passaggi molto molto densi molto forti e che appunto segnano un po' la storia della letteratura italiana del secondo novecento in particolare di quella che chiamiamo la letteratura resistenziale e fatte le debite e proporzioni ha un po' la stessa importanza del devulgari eloquenzia di Dante nei confronti della poesia italiana delle origini il devulgari eloquenzia Dante capisce subito quelli che sono i grandi della sua epoca guinizelli cavalcanti quelli che poi ancora noi oggi quando facciamo la letteratura italiana e la poesia italiana del duecento riteniamo appunto i capisaldi gli autori che contano di più e Calvino fa la stessa cosa il giovane Calvino perché Calvino ha 40 anni ha 40 anni fa la stessa cosa nei confronti della letteratura dei suoi anni e anche della sua letteratura perché si colloca anche con una certa diciamo così orgoglio senso di importanza di se stesso si colloca in questa fase bene ve la leggo già negli anni 50 il quadro della letteratura italiana era cambiato a cominciare dai maestri Pavese morto Vittorini chiuso in un silenzio di opposizione Moravia che in un contesto diverso veniva acquistando un altro significato e il romanzo italiano prendeva il suo corso elegiaco moderato sociologico in cui tutti finimmo più o meno per scavarci una nicchia più o meno comoda ma ci fu chi continuò sulla via di quella prima frammentaria epopea in genere furono i più isolati i meno inseriti a conservare questa forza e fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato quando nessuno più se l'aspettava Beppe Fenoglio e arrivò a scriverlo e nemmeno a finirlo una questione privata e morì prima di vederlo pubblicato nel pieno dei 40 anni il libro che la nostra generazione voleva fare adesso c'è e il nostro lavoro ha un coronamento e un senso e solo ora grazie a Fenoglio possiamo dire che una stagione è compiuta solo ora siamo certi che è veramente esistita la stagione che va dal sentiero dei nidi di ragno a una questione privata una questione privata che ora si legge nel volume postumo di Fenoglio un giorno di fuoco è costruito con la geometrica tensione di un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come l'Orlando Furioso e nello stesso tempo c'è la resistenza proprio come era di dentro e di fuori vera come mai era stata scritta serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele e con tutti i valori morali tanto più forti quanto più impliciti e la commozione e la furia ed è un libro di paesaggi ed è un libro di figure rapide e tutte vive è un libro di parole precise e vere ed è un libro assurdo misterioso in cui ciò che si insegue si insegue per inseguire altro e questo altro per inseguire altro ancora e non arriva al vero perché è al libro di fenoglio che volevo fare la prefazione non al mio è bellissimo sono pietre veramente pietre che danno tutta l'idea della grandezza e del riconoscimento che dobbiamo a fenoglio e naturalmente a calvino critico a calvino critico adesso la rileggo un momento e la ricommento però è qui capite è qui è questa prefazione che dà a fenoglio il posto di fenoglio fenoglio è appena morto è appena morto è appena stato pubblicato un giorno di fuoco in cui è comparsa diciamo come ultimo racconto come ultimo racconto una questione privata e calvino subito subito assegna a una questione privata il ruolo del romanzo che tutti avremmo voluto scrivere che tutti avevamo sognato di scrivere e quindi chiude in questa diciamo in questo arco cronologico 1947 1947 lui si mette lui sentiero dei nidi di ragno forse poteva mettere Vittorini uomini e no ma è una generazione diversa quella di Vittorini ci mette i ventenni cioè coloro che avevano fatto con spaval d'allegria che è uno dei termini che inserisce all'inizio di questa prefazione la resistenza spaval d'allegria quindi 1947 1963 ecco qui in questo arco cronologico sta la grande letteratura della resistenza in un certo senso siglata finita è questa è in questo arco cronologico che sta la grande letteratura della resistenza dal sentiero dei nidi di ragno a una questione privata e qui 1964 poi naturalmente verranno altre cose verrà anche il partigiano Johnny nel 68 ma sarà in un certo senso una conseguenza di questo riconoscimento le cose sono già più o meno fissate sono già definite e questa è qui la grandezza la grandezza di fenoglio ed entriamo un momento più nel merito di questo testo e vi invito naturalmente ad andare a leggerlo io invito sempre ad andare a leggere è la prefazione al sentiero dei nidi di ragno del 1964 la metà la trovate questo pezzo lo trovate a metà quindi immagino che l'abbiate perché se avete a casa come penso il sentiero dei nidi di ragno poi c'è sempre la prefazione in tutte le edizioni recenti è sempre inclusa questa prefazione quindi il più isolato la frammentaria epopea 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 e qui abbiamo un contatto molto importante anche dal punto di vista lessicale epopea epica epica l'epica cavalleresca e questo è un altro elemento fondamentale che poi dopo richiama successivamente Calvino che quindi inserisce inserisce il sentiero dei nidi di ragno ma soprattutto una questione privata perché è di una questione privata che vuole parlare che vuole parlare Calvino nella grande letteratura epico cavalleresca quindi in una dimensione europea internazionale che significa boiardo che significa ariosto che significa don chisciotte cioè la grande la grande letteratura della modernità quindi fu il più solitario di tutti appunto Beppe Fenoglio Fenoglio che era un romanziere in un certo senso d'eccezione aveva fatto appunto la resistenza aveva fatto la resistenza nei badogliani nei badogliani anche qui diciamo è un altro pezzo importante della resistenza aveva cominciato con le brigate garibaldi ma poi era passato i badogliani come altri che faranno altri narratori della resistenza saranno soprattutto badogliani quindi Fenoglio è uno degli azzurri e questo lo racconterà soprattutto molto bene nel partigiano Johnny quindi fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo il romanzo che tutti avevamo sognato già su questo per esempio Calvino va forte il romanzo non è detto che sia un romanzo può essere un racconto lungo può essere comunque è il romanzo passa da qui passa da qui l'idea appunto del romanzo arrivò a scriverlo e nemmeno a finirlo e nemmeno a finirlo anche su questo diciamo c'è c'è un po' di dibattito è finita la questione privata è conclusa la questione privata e tutti voi che l'avete letto o che avete anche visto il film finisce così finisce così la questione privata e Milton e Milton che non è riuscito a scoprire questa questione privata appunto a capire se appunto c'è stata un'effettiva relazione amorosa correva con gli occhi sgranati vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo era perfettamente conscio della solitudine del silenzio della pace ma ancora correva facilmente irresistibilmente poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò diritto come entrò sotto gli alberi questi parvero serrare e fare muro e a un metro da quel muro crollò muore viene ucciso è la fine noi abbiamo tre redazioni di una questione privata due redazioni precedenti e la terza che è quella che poi è stata pubblicata da Lorenzo Mondo di cui non ci è non ci è pervenuto il testo perché probabilmente come poi è capitato per tanti testi quando andavano in tipografia e poi li buttavano li buttavano almeno fino a un certo fino a un certo periodo quindi è un libro finito un libro non finito è importante saperlo è importante che sia finito o non finito altra domanda in questo stesso anno nel 1963 viene pubblicato Gadda viene pubblicato appunto un altro dei grandi autori dei grandi autori incompiuti incompiuti anche Gadda sia il pasticciaccio brutto di via di via Merulano sia la cognizione del dolore che viene pubblicata nel 1963 sono testi che consideriamo forse incompiuti che Gadda chiude che Gadda chiude che Gadda deve chiudere sollecitato anche qui da Garzanti e da Citati sono veramente incompiuti oppure è il frammento è la nostra etica è la nostra estetica del novecento che sulla sulla dimensione sulla prospettiva romantica non può più di tanto chiudere e resta quindi aperta resta frammentaria resta un discorso inconcluso è una domanda quindi ritorniamo alle parole di Calvino perché poi sono parole che segnano appunto anche tutta la successiva interpretazione quindi romanzo 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 che arrivò a scrivere e nemmeno a finirlo una questione privata e morì prima di vederlo pubblicato quello che ho raccontato prima Fenoglio muore appunto prima di vedere pubblicato il libro che sarà poi Lorenzo Mondo a fare pubblicare come dice dopo lo stesso Calvino nel volume postumo Un giorno di fuoco e guardate e guardate qui il tributo reso da Calvino il libro che la nostra generazione voleva fare adesso c'è e il nostro lavoro ha un coronamento e un senso e solo ora grazie a Fenoglio possiamo dire che una stagione è compiuta è il momento in un certo senso del bilancio cioè si può tracciare un bilancio si possono tracciare delle linee importanti appunto possiamo dire che è esistita questa stagione la stagione che va dal sentiero dei Nidi di Ragno del 1947 di un giovanissimo Calvino ventenne a una questione privata di Fenoglio quarantenne e qui entrano adesso altri riferimenti molto importanti perché c'è tutto quel riferimento così significativo ai poemi cavallereschi qui Calvino fa fare un salto ma un salto importantissimo che riguarda anche lui scusate se parlo di Calvino e Fenoglio ma perché sono strettamente legati Calvino negli anni 50 riscrive i poemi cavallereschi pensate quelli che poi dopo sono stati riuniti nella terna dei tre antenati degli antenati Visconte di Mezzato il barone rampante il cavaliere inesistente cosa sono? sono dei poemi cavallereschi sono dei poemi cavallereschi che Calvino Calvino riscrive riscrive come Calvino poi sarà reinterprete di Ariosto l'altro l'altro punto di riferimento fondamentale Ariosto io non mi stanco mai di ripetere l'importanza la centralità di Ariosto e di Boiardo centralità di Ariosto e di Boiardo nella letteratura mondiale perché qui stiamo parlando veramente di letteratura mondiale tanto più chiaramente nella letteratura italiana e quindi Calvino inserisce la loro stagione cioè la stagione del sentiero dei nidi di ragno e di una questione privata all'interno della grande stagione dei poemi cavallereschi sono dei poemi sono dei poemi cavallereschi hanno la stessa dimensione guardate una questione privata è costruita con la geometrica tensione di un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti teniamo a prendere questa parola inseguimenti inseguimenti perché poi la ripete ed è un grande inseguimento la questione privata un vano inseguimento un vano inseguimento l'innamoramento di Orlando di Boiardo o Orlando innamorato come nella tradizione è stato chiamato eccetera si chiude con il vano amor di Fior d'Espine il vano amor e così vani vani sono gli amori di Orlando e di Rinaldo vano vano cioè gli inseguimenti sono vani quindi c'è proprio questa continuità questa continuità e nello stesso tempo c'è la resistenza proprio come era proprio come era di dentro e di fuori vera come mai era stata scritta quindi neanche Calvino nel sentiero di Nidia non è lì la vera resistenza e perché e adesso questa è una delle domande che ci facciamo che ci chiediamo perché è vera la resistenza di una questione privata con un titolo così anche polemico strano antistorico una questione privata non una questione pubblica una questione privata perché c'è più verità in una questione privata che nell'idea di fare un grande romanzo pubblico forse perché comunque la vita di ognuno deve esserci deve esserci non si dimentica mai neanche quando si sta facendo la resistenza alla guerra il tarlo il pensiero se lei è stata con l'altro o no convive con quelle che sono le morti le sparatorie la grande storia la piccola storia e la grande storia ora qui ritorniamo a un altro dei nostri meravigliosi archetipi che sono i promessi sposi di Manzoni la grande e la piccola storia appunto Renzo che una volta quasi chiusa la questione con Lucia dopo aver superato la peste aver superato le guerre eccetera così va al bar diciamo così non è il bar ma l'osteria del paese bergamasco e gli altri cominciano a dire ma sono questa Lucia poi non è mica così tanto bella ma ha fatto tutto questo eh ha fatto tutto questo per questa Lucia e come dice e come dice Manzoni no il sangue li si trasformò in veleno no quindi ritorna ritorna la presenza della piccola storia ma della storia di ognuno di noi perché la storia in ogni grande storia c'è sempre la nostra storia la nostra storia e allora forse è qui è qui la verità la straordinaria verità che Calvino dice non c'era stata negli altri romanzi che avevano raccontato la resistenza neanche negli stessi altri romanzi o raccolte di racconti di Fenoglio ne aveva già pubblicati due i 23 giorni di alba nel 52 e primavera di bellezza nel 59 ma non erano stati altrettanto veri secondo Calvino di una questione privata eh vera la resistenza vera come mai era stata scritta serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele e con tutti i valori morali tanto più forti quanto più impliciti e la commozione e la furia furia Orlando Furioso la furia la follia la follia di Orlando la furia per la storia perché anche perché anche l'Orlando Furioso è un grande libro di storia un grande libro un grande poema cavalleresco storico certo c'è la fantasia ma l'edizione del 1532 dove inserisce le guerre d'Italia inserisce le grandi scoperte di Carlo V la polvere da sparo il nuovo modo di fare la guerra cioè in contemporanea come se stesse purtroppo parlando della guerra a cui stiamo assistendo adesso in questi giorni in questo anno all'interno dell'Orlando Furioso Ariosto parla della sua tempo della sua storia della furia di Orlando che quindi non è soltanto una furia amorosa è una furia amorosa ma è anche una furia appunto della storia e sembra appunto che Milton che Milton contenga entrambe queste due furie contenga entrambe queste due furie la furia della storia e la furia amorosa almeno questo è quello che con straordinaria intelligenza ci dice Calvino ed è un libro di paesaggi è un libro di figure rapide e tutte vive ed è un libro di parole precise e vere guardate come ritorna sempre su questa cosa vera come mai era stato scritto parole precise e vere parole precise e vere ed è un libro assurdo misterioso in cui ciò che si insegue l'inseguimento lo aveva detto prima cos'era una questione privata un libro di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti e qui ritorna sul concetto di inseguimento un libro assurdo misterioso in cui ciò che si insegue si insegue per inseguire altro e quest'altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perché non si stringe alla fine nulla che è un po' come la vita non si stringe alla fine nulla voi avete so che avete fatto un altro incontro su Celati eh altro autore importantissimo in questa linea allievo di Calvino allievo di Calvino e altro lettore lettore importantissimo di Calvino di Fenoglio dei poemi Cavallereschi Celati ha fatto addirittura una riscrittura completa dell'Orlando innamorato nel 94 nel 94 e ha scritto dei saggi bellissimi sui poemi Cavallereschi oltre su tante altre cose e proprio su questo concetto dell'inseguimento del vano del vano inseguimento il vano amor di Fior Despina no ultimo ultimo canto sospeso dell'Orlando innamorato sospeso perché appunto è arrivata la guerra Boiardo non chiude non chiude l'Orlando innamorato perché sono arrivate le truppe di Carlo VIII nel 1494 che hanno messo a fiamma e fuoco l'Italia siamo nel settembre ottobre poi poi Boiardo morirà a dicembre quindi per varie ragioni ulteriormente non gli sarà possibile chiudere chiudere quel romanzo quel poema quel poema cavalleresco ecco quindi è questo ecco Fenoglio diventa Fenoglio con questa prefazione quindi dobbiamo a Calvino dobbiamo a Fenoglio dobbiamo a Mondo dobbiamo a Lorenzo Mondo che pubblica una questione privata che pubblica una questione privata cioè senza una questione privata no senza questo riconoscimento parleremo oggi di Fenoglio in questo in questo stesso modo parleremo oggi di Fenoglio in questo stesso modo non lo sappiamo certo certo questo è un passaggio è un passaggio fondamentale poi poi apro un altro capitolo il partigiano Johnny gli anni 60 appunto sono gli anni di questa straordinaria scoperta di Fenoglio di una questione privata e anche della riscoperta poi naturalmente dei 23 giorni di alba di primavera di bellezza e di un altro libro un libro diverso perché poi Fenoglio abbiamo detto è morto giovane molto giovane quindi diciamo aveva in mente forse di scrivere anche delle altre cose ha scritto delle altre cose ha scritto per esempio questo libro che si chiama La Malora che esce nel 1954 e che è un libro contadino un libro delle langhe un libro delle langhe ha un incipit strepitoso pioveva su tutte le langhe lassù a San Benedetto mio padre si pigliava la sua prima acqua sotto terra padre morto pigliava la prima acqua e quindi è un grande libro contadino che potremmo avvicinare a quella che secondo me è una delle più belle poesie del novecento che è I mari del sud di Pavese un'altra grande poesia sulle langhe l'uomo vestito mio cugino vestito di bianco quindi le langhe le langhe contadine teniamo presente anche le langhe e naturalmente per capire ancora meglio Fenoglio vi invito tutti a fare un giro nelle langhe dare a vedere i posti di Fenoglio Bossolasco Murazzano Monbarcaro San Benedetto Treiso perché si dà un'idea si capisce anche meglio è vero che cosa è stato Fenoglio è Fenoglio che è morto poi più o meno Fenoglio è morto alle molinette ma gli ultimi mesi non si sapeva ancora bene che cosa aveva faceva fatica a respirare e quindi va per alcuni mesi a Bossolasco Bossolasco che è una delle località delle alte langhe da cui si sente come diceva Fenoglio il respiro del mare della Liguria e quindi è lì è lì che poi dopo diciamo così trascorre gli ultimi mesi poi dopo va a fare degli esami va a Bra va prima a Bra all'ospedale di Bra a fare degli esami e poi dopo va alle molinette e lì purtroppo appunto scoprono il male il male incurabile che lo porterà via nel giro di pochissimi di pochissimi mesi però appunto sono quelle langhe le alte langhe dove poi ha combattuto Johnny ha combattuto Johnny ha combattuto Milton e anche ha combattuto a suo modo appunto Fenoglio Fenoglio anche contro contro la morte ecco quindi torniamo alle langhe e torniamo al partigiano Johnny per un momento allora vi ripeto quell'invito che vi ho fatto che vi ho fatto prima quando tornate a casa eh sembra un invito di Giovanni ventitresimo ma insomma è un'altra cosa no quando quando tornate a casa guardate l'edizione del partigiano Johnny che avete perché vi spiego perché vi spiego perché allora il partigiano Johnny venne pubblicato per la prima volta da Lorenzo Mondo appunto nel 1968 questo è il partigiano Johnny il primo partigiano Johnny ed ebbe un successo strepitoso cioè conferma aumenta aumenta no ancora la fama di Fenoglio come lo scrittore lo scrittore della della resistenza il grande scrittore della resistenza e qui si innesta no sull'importanza diciamo così di Fenoglio non solo quella dei lettori ma anche della ricerca universitaria cioè Fenoglio a differenza per esempio di Pavese o a differenza di Moravia di altri scrittori è uno scrittore particolarmente importante per la ricerca universitaria e filologica e filologica perché perché appunto non abbiamo dei testi soprattutto per questi due grandi testi una questione privata e il partigiano Johnny dei testi definitivi e quindi la grande filologia del novecento alcuni grandi filologi italiani del novecento si sono cimentati proprio come un caso no come un caso di lavoro no un caso di studio no proprio su Fenoglio e allora esce una seconda edizione una seconda edizione dopo un po' di anni che c'era stata l'edizione appunto di di Lorenzo Mondo a cura di Maria Corti di Maria Corti e qui è soprattutto la grande scuola della filologia di Pavia dell'università di Pavia Maria Corti è grandissima filologa grandissima studiosa di Dante quindi diciamo la filologia al massimo dell'espressione insieme a Gianfranco Contini nel novecento che si cimenta e questa è la è la caratteristica si cimenta sulla grande filologia dantesca e questo non è secondario nella dimensione delle grandezze e sulla letteratura contemporanea non so Contini faceva Dante Petrarca e Montale e Gadda Maria Corti appunto Dante Cavalcanti eccetera e Fenoglio cioè Fenoglio diventa per la filologia il caso del novecento quindi nelle università diventa studiato diventa un punto di riferimento importante e questo naturalmente aumenta diciamo l'aura l'aura di Fenoglio all'interno del mondo accademico e degli studi e della quantità di studi che vengono riservati sul piano filologico a Fenoglio quindi nel milenovecentosettantotto dieci anni dopo l'edizione di Lorenzo Mondo esce in una nuova raccolta delle opere complete di Fenoglio da Einaudi quindi Fenoglio nel settantotto ha un'edizione delle opere complete è diventato un autore da opera omnia da opera omnia esce una nuova edizione del partigiano Johnny curata da Maria Corti e Maria Antonietta Grignani le cose però non si fermano perché perché vi ho detto che il partigiano Johnny viene trovato in casse senza un ordine definito da Fenoglio stesso c'è una cassa dove ci sono i vari manoscritti dattiloscritti un po' l'uno e l'altro ci sono dei pezzi da una parte dei pezzi dall'altra ci sono dei titoli la primavera di bellezza le imboscate eccetera come si mettono insieme ora Mondo aveva provato un modo aveva tentato un modo di tenere insieme sul piano romanzesco cioè creando il più possibile l'idea di un romanzo unito per esempio la Maria Corti più fedele a un'idea di filologia mostra invece quelle che sono un po' le spaccature quindi c'è meno l'idea del romanzo cioè mentre la lettura favorita da una questione dal partigiano Giorno di Mondo punta al romanzo Maria Corti nell'idea di una maggiore scientificità punta a far vedere quelli che erano stati gli abbozzi che sarebbero dovuti diventare romanzo nel 1992 esce una terza edizione all'interno di un'altra grande raccolta delle opere di Fenoglio romanzi e racconti curata da un altro grandissimo filologo Dante Isella il filologo di Manzoni di Carlo Porta eccetera anche qui di Pavia e del Politecnico di Zurigo quindi anche qui al massimo della filologia che fa un'edizione però ribaltata rispetto a quella di Maria Corti per dirvi come le cose sono anche diverse discutibili discutibili abbiamo sempre abbiamo sempre gli stessi testi più o meno sempre gli stessi testi vi invito a fare un'altra ricerca non so chi di voi è appassionato di Pascal è un atto dei giganti della modernità ebbene noi di Pascal abbiamo soprattutto un'opera notissima che sono i pensieri di Pascal le panse di Pascal pensieri di Pascal che vennero pubblicati postumi l'anno dopo della morte dai suoi confratelli di Port Royal che trovarono tra le sue carte delle schede delle schede delle schede erano schede per un'opera chiamata pensieri erano schede per un'altra opera intitolata forse l'apologia della religione cristiana sta di fatto che gli amici di Port Royal fecero una prima edizione di quelle schede in un certo modo privilegiando certi contenuti i temi se voi oggi andate in una biblioteca avete la possibilità di vedere in una libreria io sono un appassionato di Pascal quindi ho una quindicina di edizioni ci sono almeno otto edizioni diverse dei pensieri di Pascal cioè i filologi nel corso stiamo parlando del 1670 dal 1670 a oggi la filologia cioè gli interpreti testuali hanno cercato di capire di dare una interpretazione diversa di quell'opera eppure in qualsiasi modo la Sivolti è un'opera basilare della modernità cioè in qualsiasi modo la Sivolti e così anche per il partigiano Johnny in qualsiasi modo lo Sivolti resta un libro fondamentale quindi nel 1992 esce una nuova edizione del partigiano Johnny edizione in Audi nei romanzi e racconti curata da Dante Isella diversa da quella di Maria Corti diversa da quella di Lorenzo Mondo ma più vicina a quella di Lorenzo Mondo nel 2015 nel 2015 esce una quarta edizione curata da Gabriele Pedullà che si chiama Il libro di Johnny Il libro di Johnny anche qui con altri cambiamenti eccetera quindi a casa potete avere quattro edizioni forse ne avrete una non so quante potete avere quattro edizioni diverse vi invito a confrontarle non so quante una del 1968 che è quella di Mondo che resta comunque l'edizione più venduta e più letta l'edizione del 78 a cura di Maria Corti l'edizione del 92 di Dante Isella l'edizione di Walter Pedullà del 2015 quattro edizioni diverse per un'opera appunto che non c'era per un'opera che è stata costruita che è stata ricostruita in un certo senso restaurata comunque come vi ho detto qualsiasi edizione leggiate partigiano Johnny resta è un capolavoro però appunto abbiamo quattro quattro possibili edizioni diverse allora questo naturalmente ha contribuito tutto questo dibattito anche ha contribuito naturalmente al riconoscimento anche alla grandezza agli studi cioè sono molto più sono molto più numerosi gli studi dedicati a Fenoglio rispetto a quelli dedicati a Pavese per esempio Pavese abbiamo avuto il settantesimo il settantesimo lo scorso anno stanno riuscendo edizioni per fortuna perché diciamo così soprattutto l'università soprattutto l'università ha trascurato Pavese soprattutto l'università la filologia universitaria proprio perché presa molto più da scrittori che hanno dato filo da torcere da lavorare Gadda per esempio è un altro di questi di questi esempi quarto e ultimo capitolo proprio Pavese proprio Pavese sempre sempre questa prefazione così importante così importante di Calvino c'è un altro libro che vi invito a leggere se non lo avete già letto che è La casa in collina di Cesare Pavese 1948 1948 e altri testi poi usciti successivamente dove c'è sempre la mano di Lorenzo Mondo gli appunti partigiani di Fenoglio e il taccuino segreto di Pavese Fenoglio abbiamo detto che ha fatto la resistenza Calvino ha fatto la resistenza Pavese no Pavese è stato mandato al confino per motivi non chiarissimi era probabilmente coinvolto in qualche cosa ma insomma Pavese si è sottratto alla resistenza quindi non ha combattuto non ha combattuto si è nascosto in un certo senso e questo poi ha sollevato varie polemiche comunque lo racconta lui subito lui subito nella casa in collina un romanzo meraviglioso un romanzo appunto di un'altra versione della questione privata di chi si sottrae di chi anche si può sottrarre alla guerra e alla resistenza e la casa in collina e la casa in collina è la storia è il dramma l'inquietudine di questa sottrazione 1947 Sentiero di Nidi di Ragno 1948 la casa in collina 1947 un ventenne che con spaval d'allegria aveva partecipato alla resistenza pensando appunto che il mondo potesse cambiare come si pensa spesso a vent'anni che il mondo può cambiare la casa in collina invece è il romanzo di un quarantenne dove per la prima volta si parla di guerra civile non si era mai parlato perché nessuno ne voleva parlare e nessuno voleva parlare della questione ebraica si parlava di prospettivismo cioè delle cose che appunto dovevano andare avanti era preferibile diciamo così in un certo senso non dico dimenticare ma non dare troppa importanza a quello che era accaduto perché bisognava guardare avanti questione che ci sono sempre che ci sono sempre soprattutto dopo la fine di grandi tragedie è meglio guardare avanti meglio soffermarsi su quello che è successo approfondire eccetera grandi grandi dibattiti per esempio anche il Politecnico di Vittorini la famosa polemica Vittorini togliatti riguarda riguarda anche questo riguarda ebbene sulla casa in collina che viene naturalmente in un certo senso stigmatizzato è la è la storia è la storia di un pavese che si sottrae quindi l'antieroismo antieroico antieroico di fronte pur a una narrazione antieroica come era quella di Sentino di Diragno ma quella di Pavese è ancora più antieroica e allora Calvino nel 64 interviene anche sulla casa in collina in maniera più diciamo così morbida perché la polemica è forte è stata forte poi Pavese è morto si è suicidato quindi in un certo senso però quella cosa è rimasta sempre anche il suicidio di Pavese è rimasto sempre come un macigno un macigno nella cultura nella cultura italiana e in quella cultura torinese in particolare in quella cultura torinese nella cultura di Einaudi nella cultura di Calvino nella cultura anche di Fenoglio è rimasto un macigno quel suicidio e quel libro e quel libro che poi sarà seguito da un altro libro La luna e i falò con un'altra versione della resistenza vi leggo le dieci righe che scrive nel 64 Calvino su questa cosa dice contemporaneamente le riflessioni sul giudizio morale verso le persone e sul senso storico delle azioni di ciascuno di noi per molti dei miei coetanei era stato solo il caso a decidere da che parte dovessero combattere per molti le parti tutta un tratto si invertivano da repubblichini diventavano partigiani o viceversa da una parte o dall'altra sparavano o si facevano sparare solo la morte dava alle loro scelte un segno irrevocabile e qui apre una parentesi cioè questo è tutto pensato per Pavese comunque è pesante solo il caso solo il caso dava lo schieramento e per spiegare questo cita proprio Pavese con una parentesi fu Pavese che riuscì riuscì a scrivere aperta aperte virgolette ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione chiuse le virgolette nelle ultime pagine della casa in collina strette tra il rimorso di non avere combattuto e lo sforzo di essere sincero sulle ragioni del suo rifiuto anche queste parole bellissime importantissime nel 64 nel 64 a rileggere a ricollocare un altro romanzo fondamentale un romanzo antieroico certo la questione privata era il romanzo che tutti avremmo sognato di scrivere la casa in collina no nessuno lo avrebbe voluto scrivere però Pavese aveva avuto il coraggio di scriverlo stretto tra il rimorso di non avere combattuto e lo sforzo di essere sincero sulle ragioni del suo rifiuto grazie se ci sono delle domande benvolentieri degli interventi dei contributi delle riflessioni di lettura immagino appunto come abbiamo visto molti di voi hanno letto hanno letto dunque allora ripeto da leggere da leggere da leggere allora naturalmente il fenoglio no naturalmente il fenoglio una questione privata e il partigiano Johnny aperta parentesi quale partigiano Johnny quale partigiano Johnny però è sempre appunto il partigiano il partigiano Johnny il sentiero dei nidi di ragno no con la prefazione fondamentale di Calvino del 1964 no e la casa in collina di almeno questi almeno questi almeno questi quattro libri una questione privata il partigiano Johnny il sentiero dei nidi di ragno con la prefazione e la casa in collina di Pavese tre uomini tra l'altro delle langhe anche se d'accordo Calvino era ligure era nato addirittura a Cuba però insomma tre uomini di area piemontese che vivono tutti strettamente legati tra loro certo è una domanda che c'entra abbastanza poco con l'oggetto cioè con partigiano Johnny e con Fenoglio alcuni anni fa il Corriere della Sera in occasione probabilmente nel 2015 in occasione del 25 aprile della Resistenza pubblicò una serie di romanzi di scrittori della Resistenza appunto Fenoglio di quelli che non hai citato Meneghello e poi c'era la Gobetti la moglie di Gobetti e poi c'erano altri autori è la cosa che mi ha è una cosa personale che mi ha stupito poi c'era Uomini C'è anche la Viganò Agnese va a morire Agnese va a morire esattamente la cosa che mi ha colpito in questa serie è molto consistente più di una decina di scritti c'era anche una raccolta di condannati a morte nella Resistenza di lettere di condannati a morte era la mancanza di Mario Tubino il clandestino io l'ho letto per caso un anno fa non mi ricordo ho capito che era una ricostruzione a posteriori di un immaginaria via Reggio ma per me è stato estremamente didattico rispetto alle varie fasi in cui dal 25 luglio 43 al 25 aprile 45 una serie di ragazzi che provenivano dal fascismo come tutti incontrano questa situazione e la pagano anche di persona perché poi naturalmente dopo succede che il 25 luglio è un conto ci sono le manifestazioni e subito dopo quando arrivano i tedeschi gli stessi pagheranno le conseguenze allora la mia domanda era questa così come Uomini e no di Vittorini ripeto sono un po' fuori tema ma si collega alle cose della Resistenza così come Uomini e no è un romanzo di un immaginario gappista e che fu criticato anche per questo perché poi anche Vittorini non fece la Resistenza se non sbaglio quindi si inventò questa storia che a me è molto piaciuta ma io sono un lettore che viene molto dopo altrettanto mi ha meravigliato il fatto che in quella serie Tobino non venisse neanche preso in considerazione quindi la mia domanda è perché certo grazie innanzitutto grazie per aver portato l'attenzione su Tobino naturalmente il perché non lo so certo Tobino è un autore che è stato un po' criticato è un autore che ha avuto molta fortuna ma anche molte critiche proprio una di queste sul clandestino il clandestino è stato uno dei libri in un certo senso più messi in discussione di Tobino e Tobino ha scritto anche delle poesie bellissime sulla guerra e sulla resistenza quindi ha fatto benissimo a mettere l'accento su Tobino certo non è una versione eroica anche quella di Tobino è una versione problematica drammatica inquieta come era Tobino perché Tobino su un altro grande versante che è stato quello della follia anche lì ha preso delle posizioni che non erano posizioni tra virgolette d'avanguardia o di una certa moda anche se è sbagliato parlare di moda però Tobino come medico presente sul campo ha preso delle posizioni diverse quindi Tobino il viareggino Tobino è stato che io amo molto Tobino quindi è fatto benissimo a sottolineare questa cosa allora cito altri due libri che forse potrebbero essere importanti da leggere questa volta non siamo però sulla narrativa ma siamo su una certa saggistica uno si chiama 1943 ed è di Paolo Monelli Paolo Monelli è stato uno dei più grandi giornalisti italiani del novecento era di Fiorano Modenese però è stato soprattutto a Torino e a Roma era il marito della bellissima Palma Bucarelli che tutti gli invidiavano la critica e gallerista e gallerista d'arte ha scritto aveva fatto la prima guerra mondiale Scarpe al sole è stato un libro di grande successo è stato uno dei primissimi a fare le cosiddette guide gastronomiche viaggianti con il ghiottone errante ma questo libro invece 1943 è importantissimo perché che cosa racconta cosa cerca di ricostruire subito perché viene pubblicato nel 45 quasi subito i famosi 45 giorni dal 25 luglio all'8 settembre i giorni critici dello smarrimento del non sapere che cosa fare nessuno quasi sapeva che cosa fare nell'esercito il re lo sapeva via ecco quello è un libro bellissimo bellissimo perché viene scritto anche quello quasi in contemporanea pochissimo dopo un anno dopo un anno dopo quegli eventi e l'altro libro che voglio citare è di Ruggero Zangrandi il lungo viaggio attraverso il fascismo anche questo è un libro che viene pubblicato appena dopo la guerra ma viene ripubblicato negli anni 70 prima che Zangrandi venga a mancare che si suicidi e Zangrandi era uno di quegli scrittori di quegli intellettuali appunto che aveva fatto il fascismo era stato addirittura compagno del figlio del figlio di Mussolini e quindi aveva attraversato aveva attraversato l'epoca l'epoca del fascismo poi dopo aveva naturalmente cambiato Ideco è stato uno dei fondatori del partito socialista di unità proletari eccetera così quindi ha fatto tutto un percorso completamente completamente diverso però cerca di capire cerca di capire quale poteva essere quale poteva essere la mentalità di un ragazzo nato in quelle scuole cresciuto in quelle scuole in anni in anni in anni difficili perché anche Vittorini Vittorini che poi diventa Vittorini era stato a sua volta fascista l'italiano Brancati molti Gadda pensiamo Gadda poi con adesioni più o meno no più o meno convinte no era anche necessario esserlo perché occorreva lavorare per esempio no cioè Pavese Pavese no si scrive nonostante poi dopo venga mandato al confino perché deve lavorare quindi diciamo le situazioni sono complesse sono molto complesse allora questo altro libro il lungo viaggio attraverso il fascismo è un altro libro secondo me molto bello molto bello e molto e molto importante qui siamo su un piano diverso no 1943 è il piano diciamo della della ricostruzione quasi nel momento in cui avvengono queste cose e per capire quegli strani 45 giorni in cui l'Italia poteva essere da qualsiasi parte era ancora alleata dei nazisti stava cambiando come poi effettivamente verrà chi è che difende Roma perché arrivano le divisioni corrazzate tedesche cioè quindi racconta in diretta questo senso di smarrimento e l'altro appunto è il lungo viaggio attraverso il fascismo di molti di molti che fanno che fanno anzi di quasi tutti perché la clandestinità no non era non era facile non era facile oppure bisognava essere organizzati e andare e andare fuori insomma andare fuori quindi queste potrebbero essere delle letture che si affiancano col tempo col tempo alle altre alle altre letture invece più di più di narrativa vi dico per chi avesse intenzione a Guastalla per chi avesse voglia di fare una piccola una piccola gita mercoledì 8 no cominciamo questa serie questa serie di film cioè di introduzioni letterarie cominciamo appunto con una questione privata a Palazzo a Palazzo Ducale cominciamo con una questione privata poi il mercoledì successivo facciamo i piccoli maestri ne avete già parlato di Meneghello o ne parlerete? ne parlerete facciamo i piccoli maestri di Meneghello che è un altro romanzo bellissimo anche questo di un altro che ha partecipato alla resistenza poi andiamo su Bianciardi la vita agra e chiudiamo con Flaiano il 5 il 5 di marzo con una domenica pomeriggio dove facciamo la dolce vita dove facciamo la dolce vita perché tra l'altro il 5 marzo è racchiude vari diciamo anniversari di nascita comunque l'anniversario di nascita di Ennio Flaiano e anche quello di Pasolini 5 marzo 1922 Pasolini 5 marzo 1910 Flaiano e anche 5 marzo 1910 Mario Pannunzio uno dei grandi giornalisti del nostro novecento bene vi ringrazio allora grazie 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 grazie